E di due feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte fra sabato e domenica in Via Croce a Salerno. Coinvolti nel sinistro un ragazzo ed una ragazza, entrambi trentenni, che si trovavano a bordo di un motociclo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantati contro le auto parcheggiate. Un impatto violento che ha causato l'amputazione del piede per il ragazzo e della gamba per la ragazza. Sul posto, immediato l'arrivo degli operatori del soccorso che hanno provveduto a trasportare i feriti presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Ad indagare sull'accaduto, i carabinieri di Salerno.